Nella spigolatura 40 abbiamo presentato gli organi deputati alla gestione delle tasse nel Ducato di Milano e le numerose tasse ordinarie che i cittadini milanesi dovevano al fisco. Oggi è tempo di affrontare le tasse straordinarie e infine usciremo dalla città per vedere come era la tassazione nei paesi brianzoli. Dal 1707 al 1717 gli austriaci attivavano una impressionante serie di entrate straordinarie ovviamente motivate dalla necessità di far fronte a spese militari ingenti e urgenti. Addirittura, tra il 1707 e il 1711 le entrate straordinarie uguagliavano o addirittura superavano le entrate ordinarie, sintomo di una gestione finanziaria in grande affanno. Tra le voci d'entrata straordinarie si ritrovano i perticate anticipati. Erano la riscossione anticipata dell'imposta fondiaria sui beni cittadini nel Ducato per l'anno in corso. Addirittura, per gli anni successivi. Insomma, è come se oggi nel 2022 pagassimo le tasse del 2023 o del 2024. Oppure, ecco pagare imposte arretrate, cioè recuperi di crediti d'imposta sul praticato civile o sull'estimo del mercimonio di uno o più anni prima. Ma gli austriaci necessitavano ancora di soldi. Non bastando la riscossione anticipata o il recupero di crediti, il comune di Milano ricorsa alla vendita di immobili. Ad esempio, la vendita dell'effetto dei terrapieni, ossia la vendita di porzioni dei bastioni che potevano essere poi affittati e che fruttò 80.000 lire nel 1707. E si vendette anche parte dei locali del broletto, come la vendita della casa et osteria del broletto, 150.000 lire nel 1710. Oppure sempre la vendita di una camera et desolari del broletto, 12.700 lire beccate nel 1712. Oltre alla vendita di immobili, la città di Milano ricorse alla vendita di regalie, cioè del diritto di riscossione di un dazio o di una parte del dazio. Ecco due esempi curiosi. Nel 1710 fu venduto l'effetto della duplicazione dell'estimo imposta in quest'anno sopra le merci stramontane, cioè sulle merci stranieri, ricavandone 200.000 lire. E sempre nel 1710 fu venduto l'aumento di soldi venti, imposto in quest'anno per ciascun carro di fieno, con ricavato di 170.000 lire. Ma la fame di denaro era insaziabile, tanto che le autorità austereiche milanesi chiesero più volte prestiti al banco di Sant'Ambrogio. L'emblematica è la motivazione e le tre voci straordinarie d'entrata nel 1717, per supplire in parte di tanto sbilancio. Dal banco di Sant'Ambrogio 62.333 lire, da detto banco ancora 42.000 lire, dal cassiere brusati 202.000 lire. La necessità di reperire fondi per bilanciare entrate e uscite indusse la città di Milano a vendere anche quote di derrate alimentari conservate nei granai pubblici e necessarie in caso di carestie, come si evince da alcuni bilanci. Si ricavavano soldi da frumento e miglio del magazzino venduti. Nel 1707 si parla di 7.740 lire, nel 1708 però di ben 110.000 lire, nel 1710 altre 20.000 lire e nel 1712 altre 26.000 lire. Beh, anticipi di Perticati, recupero di crediti fiscali non riscossi in anni precedenti, alienazioni di immobili e dazi, prestiti dal banco di Sant'Ambrogio, vendita di granaglie, furono tutti espedienti dettati dall'urgenza di far quadrare i conti. Ma anche dimostrazione dell'incapacità, o meglio della non volontà delle autorità cittadine di riformare l'impianto tributario ordinario o di ridefinire la base imponibile delle imposte, ma soprattutto di intaccare una volta per tutte le esenzioni degli ecclesiastici e i privilegi del ceto nobile. Per forza, le autorità cittadine austriache erano tutti nobili oppure ecclesiastici. Terminata la disamina delle entrate della città di Milano, è tempo di analizzare le entrate del Ducato di Milano, sempre con riferimento al periodo 1703-1720. Queste le quattro voci d'entrata, tassa della cavalleria, perticato rurale, quota di censo e tasse e partite fuori d'imposta. Il perticato rurale e la quota di censo ducale garantirono un gettito invariabile, il censo, o con lievissime variazioni, il perticato, rispettivamente di oltre 54.000 lire per il censo e di 188.000 lire circa per il perticato rurale. Cavalleria e partite fuori d'imposta generarono invece gettiti con sensibili variazioni. La cavalleria oscillò tra un massimo di 978.455 lire nel 1706 a un minimo di 262.988 lire nel 1714. La quota di censo da un minimo di 510 lire nel 1707 a un massimo di 113.201 lire nel 1711. Dunque nel periodo esaminato la tassa della cavalleria fu la principale entrata del Ducato e per questo cominciamo da questa voce del bilancio ducale. Fino al 1662 città e Ducato di Milano erano stati esentati dal pagamento della tassa dei cavalli, imposta finanziata dal resto dello Stato per il mantenimento dei cavalli dell'esercito. In quell'anno però fu istituita la tassa della cavalleria ed alloggi militari, detta anche del rimplazzo, allineando così Milano e il suo Ducato alle altre province. I milanesi pagavano sulla parte colonica del perticato civile, gli abitanti delle comunità del Ducato col sistema delle staia di sale, mutuata appunto dal censo del sale. Il censo del sale nacque nel 1462, quando Francesco Sforza obbligò ciascuna comunità a prelevare dalla camera una certa quantità di sale, pari a sei libbre per ciascun abitante dai sette anni in su e uno staio ogni dieci cappe di bestiame. Nel 1534 tale prelievo fu eliminato dietro l'obbligo di versare 40 soldi per ciascun staio di sale prelevato annualmente. Questo pagamento fu chiamato censo del sale e furono conservate le antiche tavole del sale come pesi per determinare l'imposta di ciascuna comunità. Del sale rimase quindi solo il nome. Nel frattempo era stato istituito il dazio o gabella del sale, che veniva raccolta presso l'attuale palazzo della polizia urbana a Milano. C'era anche una via dedicata, la contrada della gabella del sale, presso la chiesa di San Zeno delle Convertite, appena dietro al vecchio palazzo di giustizia. La via è scomparsa e corrisponde all'area occidentale di Largo Bersaglieri, in fondo a corso Europa. Della gabella del sale abbiamo parlato diffusamente nella spigolatura 39. Il censo del sale fu poi smembrato tra una quota riscossa dallo Stato di Milano e una quota riscossa dal Ducato, ma le tavole del sale fornirono il criterio di ripartizione anche di altre imposte, come appunto la tassa della cavalleria. Il paradosso è che i pesi fiscali delle varie comunità facevano riferimento alla situazione demografica del 1534, animali compresi, ma quota del censo e cavalleria furono pagati nel Ducato fino all'entrata in vigore del Catasto Teresiano nel 1760. Rimane da dire delle partite fuori di imposta, entrate che ebbero un'incidenza marginale nei bilanci, fatto salvo il triennio 1711-1713, fase finale della guerra di successione spagnola, con un gettito variabile tra il 10 e il 17% del totale. Tra le voci citate ci sono anche singole sovvenzioni di private, ma soprattutto entrate fisse, quali il fitto della banca delle strade? Il reddito delle prestine, cioè sui forni del pane? O il dazio del sesino, cioè sulle carni? Termina qui il video di oggi, ma non il confronto tra fisco statale, cittadino e ducale. Nella prossima spigolatura infatti analizzeremo alcuni dati aggregati dei perticati civile e rurale desunti dall'estimo di Carlo V, confrontando diverse realtà territoriali. Vi aspettiamo dunque amici del Bruco! Grazie! 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 Grazie!